Ci sono due esorcismi solenni che vengono fatti da Gesù. Il primo è nella sinagoga di Cafarnao e il secondo è questo. Il primo era all'interno di una comunità ebraica. La sinagoga è il luogo di preghiera della comunità ebraica della città di Cafarnao, in pieno territorio occupato, abitato dagli ebrei. Siamo sulle sponde del lago di Tiberiade, il lago di Galilea. In quel caso l'esorcismo viene fatto davanti a tutti e ci sono anche gli scrivi, i quali stanno a guardare proprio questo. Gesù provoca il demonio, nel senso che il demonio ha il permesso di parlare perché Dio gli permette di parlare o di agire perché Dio gli permette di agire. E lì dice la stessa cosa che viene detto qua. So che sei il santo di Dio, taci e esci da costui, che vuol dire prima gli lascia dire quello che è la verità su di lui e poi dopo gli ordina di uscire e quindi mostra la sua potenza, il suo potere. Non deve niente al demonio, ma il demonio deve qualcosa a lui perché è una creatura di Dio che si è diretto verso il male ed è diventato dunque quello che noi chiamiamo spirito impuro con il Vangelo. In questo caso invece la testimonianza non è per i credenti ma è per i non credenti perché siamo in terra pagana. Lo dice la storia perché si conosceva quella che era la regione, la regione dei Geraseni. Gerasa è nella Decapoli, è l'attuale Giordania e il luogo dell'esorcismo, cioè la parte della sponda che si offre diciamo così da quella parte lì del lago di Tiberiade e dell'attuale Siria. Tutto questo territorio veniva chiamato Decapoli o le dieci città in quel tempo. Gesù dunque va in questa regione di pagani e fa una liberazione. Il fatto viene provocato dal demonio stesso ma chiaramente tutto sotto il controllo di Dio e sembra assurdo che il demonio che scappa davanti a Dio invece in questo caso l'indemoniato, controllato chiaramente dalla forza del demonio, corre davanti a Gesù, si inginocchia, lui che nulla poteva essere tenuto né conceppi di ferro né catene né altro perché spezzava tutto e quindi si inginocchia e dimostra la sua sudditanza, la sua debolezza di fronte al Cristo e proclama noi sappiamo chi sei in nome di Dio però non tormentarmi. In nome di Dio lo chiede per il potere di Dio Padre che ha mandato il figlio e che vuoi da me Gesù figlio di Dio. Quindi anche qui in questo caso proclama la divinità del Cristo mandato dal Padre. Questo è per un mondo pagano perché il mondo pagano sappia e ancora una volta il controllo della situazione da parte di Gesù che dice esci ma prima gli chiedi qual è il tuo nome. Mi chiamo Legione perché siamo in molti. Dimostra che sono in molti acconsentendo di andare in quella mandria di Porci sono circa duemila e quindi come minimo erano duemila spiriti impuri. Se duemila stavano in un uomo potevano essere di più anche. Ma sta di fatto che l'intera mandria impazzisce, fa vedere quello che provoca l'invasione demoniaca anche in un corpo animale e si precipitano tutti quanti dalla rupe che si trova proprio sul lago di Tiberiede sulla sponda a est verso il fondo e si buttano lì nel mare e affogano tutti quanti. Gesù dunque compie questo prodigioso e anche spettacolare esorcismo per il bene dei pagani. Innanzitutto per la liberazione di un pagano non è la prima volta camminando dalla parte verso il mare nella terra che è del Libano verso i confini continui e Sidone una donna va a chiedergli pietà per la figlia indemoniata e lui la accontenta a distanza. Quella donna va a casa e la figlia è liberata. Dunque l'esorcismo, la liberazione dal demonio per un pagano è una domanda che noi potremmo anche farci. Fu posta anche, ho avuto modo di leggere delle documentazioni in quelli che erano nel secolo dell'Ottocento e primi Novecento, delle questioni dai missionari, per esempio se i missionari che erano in Turchia, se un due essere battezzato prima di essere esorcizzato, nel senso che merita una liberazione solo se diventa cristiano o meno. E la risposta della Santa Sede fu no. Coloro che vengono, anche se sono musulmani e chiedono la liberazione dal demonio, liberateli ma mettete in evidenza il fatto che è la potenza del Figlio di Dio che li libera e non il vostro potere personale. quindi una testimonianza di Cristo che la Chiesa ha mantenuto nei secoli con una bella chiarezza ed è un argomento che si chiama apologetico cioè di in favore di quello che è la fede cristiana far vedere come la nostra fede ha il potere sugli spiriti immondi perché il Cristo è l'uomo che li ha vinto avendo tutto il potere di Dio ed essendo di natura divina lui stesso ha dimostrato questo e la Chiesa continua a fare queste cose nel nome di Cristo e sul mandato di Cristo. Ora questo fatto dimostra anche a quegli uomini pagani e i pagani anche dei nostri giorni che vi è un mondo spirituale molto vivo, molto vivace nel bene e nel male e così anche nell'esperienza di tanti esorcisti dei nostri giorni vi è questa bella testimonianza che si può dare di tante persone che vivono nel mondo attuale con un concetto di religione molto formale e molto distante da quello che è la presenza di Dio vivo, una religione spesso fatta solo di ritualità con degli appuntamenti che sono i sacramenti poi tutti scompaiono, andare a messa così per le occasioni o perché c'è un matrimonio o c'è un funerale o perché io quel giorno mi sento di andare a messa o qualcosa del genere o fare le feste patronali o cose del genere senza con questo avere nessun tipo di atteggiamento di fede e di culto nel Dio vivo e vero che è presente nel tabernacolo e si rende presente qua sull'altare. Questo tipo di religione superficiale, una religione senza fede, è una religiosità senza fede fatta solo di appuntamenti di ritualità e niente più come se non ci fosse un Dio vivo fra di noi, veniva in qualche modo superato da quelle persone che erano colpite da questo tipo di male, venivano liberate dagli esorcisti e anche i parenti, amici che portavano le persone come esattamente come accade qua, tutti quanti vedono, partecipano, vanno a chiamare gli altri, raccontano il fatto straordinario e per la prima volta queste persone comprendevano che la fede non è una questione di attitudine a voler credere qualcosa o qualcuno o fare delle cose in modo anche superficiale o superstizioso, ma è avere a che fare con un Dio vivo e vero che ci difende, ci nutre e ci conduce in cielo contro delle forze che invece sono opposte a noi, le quali si servono degli uomini, guardate bene, così come gli uomini possono essere posseduti da uno spirito impuro, possono essere anche convinti di peccato, deformati nelle idee, nelle idee che possono essere dunque non più rette, non più vere, non più giuste, ma appunto quello che noi vediamo nel mondo, la violenza, le guerre, la disonestà, la corruzione, tutto questo viene dall'emonio non perché tutti siano posseduti, ma perché seguono idee, ispirazioni, impulsi che non vengono dallo spirito santo ma vengono da un altro spirito o da altri spiriti. La fede dunque è dimostrata in questi casi in un modo molto vivo, vivace, un tempo era più verso i pagani, all'interno era importante per dimostrare che la parola del Cristo è una parola di autorità e di potenza e noi siamo un po' nella stessa situazione. Quello che dispiace molto è vedere come la Chiesa in genere, pur avendo tutto un suo rituale e degli esorcisti nominati eccetera, la Chiesa nei suoi rappresentanti gerarchici fa molta fatica ad accettare questo fatto e cerca di frenare questa attività di liberazione che per i casi di possessione può essere anche raro perché, come diceva Santo Agostino, se ogni persona che pecca dovesse essere posseduta del demonio il mondo intero sarebbe posseduto. Però in realtà è la dimostrazione viva di quanto può fare il demonio, quanto male può fare e dunque che esiste come essere personale, un'intelligenza spirituale perversa legata al male contro Dio, contro la Chiesa e contro tutti coloro che sono i fedeli di Cristo. Gesù è venuto, come dice la lettera di San Giovanni, a distruggere le opere del demonio. Ecco dunque che questa attività della Chiesa, come dico ha un suo rituale ben preciso che è rimasto immutato per molti secoli fino al 1999 dove è stato riformato, ma tutto ora esiste, è un'attività importante non tanto per il numero delle cose che si possono fare in questo senso ma per la rilevanza pratica, visibile di quello che è l'azione del demonio e di quello che è il potere della Chiesa. E dunque non si tratta solamente di idee che noi possiamo cambiare o cambiare il Vangelo perché noi non stanno bene. Quello che è scritto è verità e non a caso il demonio durante gli esorcismi, tutto quello che è sacro lo infastidisce o lo terrorizza e invece gode ridendo alla grande, ho sentito con le mie orecchie, quando le persone non credono o addirittura un sacerdote non crede a queste cose o alla potenza del demonio o tutte queste cose che sono delle verità di tipo spirituale. Ora, togliere il demonio come persona, così come il Vangelo che è verità ce lo propone e mettendolo come fanno certi teologi, l'hanno fatto per decenni fino al punto che ormai molti anche senza doverlo studiare credono questa cosa. Molti teologi hanno scritto che il demonio non esiste, è solo una simbolizzazione del male in quanto tale, quindi è un'azione simbolica di un linguaggio primitivo per uomini primitivi. Per noi uomini moderni parlare di queste cose vorrebbe dire fare un passo indietro nell'ignoranza. Noi vogliamo fare invece un passo avanti perché è ignoranza, non seguendo l'insegnamento della fede, la quale anche si dimostra nei fatti, il credere è ignoranza, il non voler credere che le cose del Vangelo siano tutte vere e che Gesù non ha parlato a uomini primitivi e noi siamo più furbi, più istruiti, più smaliziati. Le parole di Gesù non passeranno, il Vangelo è verità, tutto quello che è scritto è vero e noi dobbiamo inchinarci con rispetto perché se la verità ci è stata data dal Cristo è per la salvezza della nostra anima, è per il nostro bene fisico e spirituale e dobbiamo seguire dunque questa verità con tanta umiltà, con tanta fiducia e prima di cancellare qualche parte della scrittura, che non si può fare, lo dice Gesù, che la scrittura non può essere annullata, sono parole sue, dobbiamo invece metterci in ginocchio per comprenderla e metterla in pratica perché, come dice Gesù, la scena di questo mondo passa ma le mie parole non passeranno. Sio l'ho dato Gesù Cristo. Sio l'ho dato Gesù Cristo.